Il Partito Democratico, come dicevo, da un anno ha un obiettivo, ricostruire un'identità comprensibile, forte, chiara, univoca e costruire l'alternativa a queste destre. Io non vorrei che fosse un problema solo mio o solo nostro, vorrei che fosse una responsabilità che anche le altre forze d'apposizione sentissero alla stessa maniera. Vuol dire che è ven tutto facile? No. Vuol dire che bisogna fare un confronto costruttivo avendo però in chiaro una cosa, che l'avversario è questo governo, perché altrimenti non ce ne libereremo. È molto semplice, è quasi un elogio della matematica. Se voi fate un esercizio che probabilmente avete già fatto, non ho visto i sondaggi dell'ultima settimana, ma se voi vedete mettere insieme le forze, ha già oggi il potenziale di competere direttamente con l'alleanza di governo. Io non credo e spero che questa cosa non interessi soltanto al Partito Democratico. A noi interessa di certo, lo dico sempre, non perché ce l'abbia ordinato il dottore di lavorare alle alleanze, ma perché ce lo chiede la gente per strada. Tant'è che l'atteggiamento unitario ha dimostrato di portare risultati al Partito Democratico. Quando sia dove vinci e non con un candidato che è espressione del Partito Democratico, sia quando perdi, aumenti i tuoi voti, vuol dire che i nostri elettori da noi si aspettano questo, non la rappresentanza, ma la costruzione di un'alternativa di governo a questa destra, le cui politiche, come stiamo discutendo, già ammordono alle caviglie delle fasce che fanno più fatica in questo Paese. Quindi io continuerò testardamente unitaria, sicuramente qualche problema c'è, però vorrei segnalare a chi dichiara morta ogni prospettiva di costruzione dell'alternativa che facendo i conti a spanne, al di là delle europee, dove ognuno va per sé e si vede, in quattro regioni su cinque in cui si vota da quando ci sono io si è fatta questa alleanza e in alcuni casi anche più ampia, su 27 comuni capoluoghi che vanno al voto il 9 giugno insieme alle europee, in 22 o c'è già l'accordo o lo stiamo definendo, 22 su 27. Non mi sembra così morta la costruzione di un'alternativa, fortunatamente per l'Italia. Mi sembra che appunto noi continueremo a lavorare tra mille difficoltà in questa direzione, forti dei nostri temi, dei nostri convincimenti e mi faccio dire anche forte della nostra comunità, che è una comunità straordinaria fatta di migliaia e migliaia di iscritti, militanti, elettori ed amministratori che ogni giorno cercano di lavorare nell'interesse collettivo. Questa comunità merita rispetto e io non ho bisogno diciamo di né di consigli né di altro nel fare quello che stiamo facendo da quando siamo stati eletti alle primarie per fare. Continueremo su questa strada, lo stiamo dimostrando con atti concreti, non ci interessa ingaggiare nella polemica con le altre forze di opposizione mentre il Governo spacca il Paese con l'autonomia differenziata, smantella la Repubblica parlamentare, taglia la sanità, aumenta le tasse, taglia le pensioni, nega l'emergenza climatica.